Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Chiara Nasti si sposa, arriva la proposta di matrimonio del compagno Mattia Zaccagna, scopriamo tutti i dettagli, il video di quel momento e perché l'anello scelto sta già facendo il giro del web. Chiara Nasti si sposa, arriva la proposta di matrimonio del compagno Mattia Zaccagna, scopriamo tutti i dettagli, il video di quel momento e perché l'anello scelto sta già facendo il giro del web. Leggi anche, Chiara Nasti, tutti i fidanzati, da Zaniolo a Mattia Zaccagni, foto e curiosità sull'influencer Chiara Nasti si sposa, la proposta di matrimonio di Mattia Zaccagni Matteo Zaccagni ha chiesto a Chiara Nasti di sposarlo, durante una cena al lume di Candela in una location da favola, davanti al mare. Il momento è stato immortalato e diffuso sui social dall'influencer napoletana. Nel video i due vengono ripresi un attimo prima che il calciatore si inginocchi per dare l'anello alla compagna. La proposta di Zaccagni è stata fatta ad opera ad arte, il calciatore ha estratto il copanetto, si è inginocchiato e ha mostrato l'anello alla compagna. Immediata la reazione di Chiara Nasti che di fronte alla proposta di matrimoni del compagno si è inginocchiata a sua volta per terra, abbracciandolo e riempendolo di baci. Una volta indossato l'anello Chiara ha risposto al suo compagno, Chiara Nasti anello di fidanzamento, il dettaglio ma perché l'anello di fidanzamento di Chiara Nasti sta facendo tanto discutere il web? A balzare all'occhio non è stato tanto l'anello ma il copanetto che lo conteneva. Una volta aperto, infatti, una bagliante luce automatica ha illuminato la Nasti per tutta la durata della proposta. Nelle gioia generale per la coppia, questo simpatico dettaglio ha fatto molto sorridere i followers della coppia. Chiara Nasti proposta di matrimonio, il video di seguito il video della proposta di matrimonio di Mattia Zaccagni a Chiara Nasti in cui è possibile notare il dettaglio dell'anello di fidanzamento, https2.com.it-wp-content-uploads-2022-08-chiara-nasti-matrimonio.mp4 Quando il matrimonio? Ma quando verrà celebrato il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Non è ancora stata ufficializzata nessuna data, ma è logico pensare che i preparativi saranno posticipati dopo il parto della futura sposa. Chiara Nasti, infatti, è incinta, aspetta un maschietto e il parto è previsto per novembre. Restate aggiornati con per scoprire in anteprima tutte le news sul video con la proposta di matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!